Buon lunedì e buon inizio di settimana da Francesco Ida, benvenuti al nostro consueto appuntamento con la pagina sfortiva. Ventunesima giornata di eccellenza e promozione Girone A, iniziamo con l'anticipo di sabato in eccellenza tra Locri e Bovalinese 3-0 per i padroni di casa, risultato che porta la Bovalinese a quota 28 in classifica e relega anche questa settimana la Bovalinese ad occupare l'ultimo posto assieme al Cotronei. In testa il San Luca viene fermato in casa dal Vigor Lamezia sullo 0-0, Lametini che nonostante il pareggio comunque difficilmente potranno dire la loro sulla conquista del campionato, mentre ne approfitta la Reggio Mediterranea che battendo il Cotronei per 4-1 si porta 3 sole lunghezze dal San Luca stesso. In coda buon punto per la Paolana grazie allo 0-0 con l'isola Capo Rizzuto, scoffitte pesanti invece per il Trebisacce a San Biase per 3-0, e per il Soriano a Scalea per 1-0 e Biancostellati che vincono grazie al gol di spada. Ed ecco la classifica e i risultati. L'Ocri Bovalinese 3-0, Paolana Isola Capo Rizzuto 0-0, Reggio Mediterranea Cotronei 4-1, San Biase Trebisacce 3-0, San Luca Vigor Lamezia 0-0, Scalea Soriano 1-0, Sersale Bocale 2-1 e Gallico Catona Morrone 3-1. Per una classifica che vede in testa il San Luca con 45 punti, seguito dalla Reggio Mediterranea 42, poi Vigor Lamezia 39 in coda, invece 21 punti per il Gallico Catona, Soriano e Polana 19, Trebisacce 16, Bovalinese e Cotronei 15. Passiamo ora alla promozione gironeale. La capolista Belverere dopo lo scivolone interno con lo Juvenile era chiamata la non fragile trasferta contro lo Schiavonea. Gli uomini di Liparoto passano 2-0 dimostrando così che la sconfitta di domenica scorsa è stato solo un incidente di percorso e rimettendo anche a debita distanza le inseguitrici. Infatti ne è il Praia Tortora che subisce la seconda sconfitta casalinga, questa volta ad opera del Sant'Agata per 2-1, e nella Rossanese che in casa pareggia 5-5 con il Sanfili, dando vita ad un vero e proprio festival del gol, riescono a tenere il passo. In coda invece Promosport e Cassano si dividono la posta con uno scoppiettante 3-3, mentre il Rogliano cede in casa alla Mantea per 2-1. Risultati e classifiche dunque anche per la promozione girone a Schiavonea Belvedere 0-2, il Rogliano a Mantea 1-2, Praia Tortora a Real Sant'Agata 1-2. Promosport e Cassano 3-3, Rossanese e Sanfili 5-5, San Marco Cacurese 0-0, Acri Cutro 4-0, Juveniglia Garibaldina 2-1. In classifica dunque Belvedere saldamente al comando con 51 punti, Rossanese a 45, Praia Tortora a 41. In coda invece Cacurese 22, Promosport 21, Cassano e Rogliano 20, Cutro 14, chiude il San Marco con 13 punti. E la pagina sportiva la chiudiamo con il volley, prestazione sottotono per i lagonegresi della Geo Vertical Geosat che lasciano tre punti alla Chemas Santa Croce, giunta a Corigliano con il coltello tra i denti. Tre set mai in discussione per gli ospiti che si fanno sempre rincorrere dagli uomini di Falabella, poco lucidi e poco precisi, anche quando la distanza tra le due si riduce. E con la pagina sportiva è tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di programmi su Radio DGS.